Oggi per gli artisti, che hanno questa capacità di creatività molto grande e per la strada della bellezza ci indicano la strada a seguire. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività in questo momento. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata e poi ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei panni e ha visto il potere di Gesù, voleva lo fare al re. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola e anche per chiedere la guarigione delle ammalati. Sono rimasti tutta la giornata ascoltando Gesù, senza annoiarsi, senza stancarsi o stanchi, ma erano lì felici. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, cosa che loro non aspettavano, hanno pensato, ma questo sarebbe un buon governante per noi e sicuramente sarà capace di liberarci del potere dei romani e portare il paese avanti. E si sono entusiasmati per farlo re. La intenzione di loro è cambiata. Perché hanno visto e hanno pensato bene. Perché una persona che fa questo miracolo, che da mangiare al popolo, può essere un buon governante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù faceva nascere nel loro cuore. Gesù si allontanò e andò a pregare. Si vede che quella gente è rimasta lì. e ciò non dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Perché avevano visto che non era salito sulla barca con gli altri. C'era una barca lì e è rimasta lì. Ma non sapevano che Gesù aver raggiunto gli altri camminando sulle acque. Così si sono decisi di andare dall'altra parte del mare di Beriadi a cercare Gesù. E quando l'hanno visto la prima parola che gli dicono «Ravi, quando sei venuto qua?» Come dicendo, non capiamo. Questo sembra una cosa strana. E Gesù gli fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei padri, quando ascoltavano la parola di Dio. In verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni come all'inizio, no? I segni della parola che li entusiasmavano, i segni della guarigione. Non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei panni e vi siete saciati. Gesù svela l'intenzione di loro. Ma è così. Avete cambiato di atteggiamento. E loro, invece di giustificarsi, no, Signore, no, sono stati umili. Gesù continua, datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane alla vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre ha messo il suo sigilo. E loro, buoni, dissero di che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio. che crediate nel figlio di Dio. Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone, della folla. Perché a metà cammino si era un po' allontanato del primo momento, della prima consolazione spirituale. E aveva preso una strada che non era la giusta. una strada più mondana che evangelica. Questo ci fa pensare tante volte che noi nella vita incominciamo una strada alla sequela di Gesù, dietro Gesù con i valori del Vangelo e a metà strada ci viene un'altra idea, vediamo qualche segnale e ci allontaniamo e ci conformiamo con una cosa più temporale, più materiale, più mondana può darsi e perdiamo la memoria di quel primo entusiasmo che abbiamo avuto quando sentivamo parlare Gesù. Signore, fa tornare sempre al primo incontro, al primo momento nel quale Lui ci ha guardato, ci ha parlato e ha fatto nascere dentro di noi la voglia di seguirlo. questa è una grazia da chiedere il Signore perché noi nella vita sempre avremo questa tentazione di allontanarci perché vediamo un'altra cosa ma quello va ad andare bene ma quell'idea è buona e ci allontaniamo la grazia di tornare sempre alla prima chiamata al primo momento non dimenticare non dimenticare la mia storia quando Gesù mi ha guardato con amore e mi ha detto questa è la tua strada quando Gesù tramite tanta gente mi ha fatto capire qual era la strada del Vangelo e no altre strade un po' mondane con altri valori tornare al primo incontro a me sempre ha colpito che le cose tra le cose che dice Gesù alle donne nella mattina della resurrezione andate dai miei discepoli e ditegli che vadano in Galilea lì mi troveranno Galilea era il posto del primo incontro lì avevano incontrato Gesù ognuno ognuno di noi ha la propria Galilea dentro la propria momento nel quale Gesù si è avvicinato e ci ha detto seguimi la vita succede questo che è successo questo che è successo questa gente buona perché poi gli dice ma cosa dobbiamo fare subito hanno obbedito succede che ci allontaniamo e cerchiamo altri valori altre ermeneutiche altre cose e perdiamo la freschezza del primo chiamato l'autore della lettera agli ebrei anche ci rimanda a questo ricordatevi i primi giorni la memoria la memoria del primo incontro la memoria della mia Galilea quando il Signore mi guardò con amore e mi ha detto seguimi grazie